Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. È uscito recentemente l'ennesimo surreale articolo del rotocalco turbomondialista, voce del padronato cosmopolitico, La Repubblica. In sostanza Repubblica, fin dal titolo, dice che Orban in Ungheria, Trump negli Stati Uniti d'America e la Le Pen in Francia sono pedine manovrate da Putin, proprio così. Secondo Repubblica, infatti, Putin punta nel mondo su questi personaggi, sulla Le Pen in Francia, su Orban in Ungheria e su Trump negli Stati Uniti d'America. Ora, è curioso vedere come coloro i quali, ossia gli araldi del pensiero unico, bollano come complottista chiunque dissenta dalla narrativa egemonica, siano poi i primi a complottare in modo cospirazionistico attribuendo a chiunque dissenta la categoria di marionetta di Putin. Tra l'altro, i giornalisti di Repubblica dovrebbero individuare la vera marionetta, che nel caso specifico è il Guito Zelensky, attore nato con la N maiuscola, prodotto in vitro di Washington, se non di Hollywood, semplice marionetta agitata e forse anche ampiamente finanziata da Washington in funzione antirussa. E invece di questa marionetta, curiosamente, fino a un certo punto, i giornalisti di Repubblica tendono a tacere solennemente. Come si fa ancora a prestare fede alla narrazione dominante dell'ordine liberale atlantista? Come si fa ad aver fiducia ancora nella narrazione degli autoproclamati professionisti dell'informazione?